Buongiorno, prima di parlare della sosta parliamo anche dell'ultima partita, Colcomo ha provato cose nuove, molto al di là di quello che è successo in campo, molto stuzzicanti e molto allettanti, penso basket in mediana, Rosario ha definito un po' il Luis Alberto della Cremonese, ma anche la coppia Kodok-Reke che ha offerto delle buone cose, ci siamo lasciati con un buon appetito. Sì, allora se vado a fare una considerazione della partita c'è molto anche di fortuna se vogliamo negli episodi perché negli eventi della partita poi dal rigore sbagliato poteva essere magari anche cambiato, c'è stato sicuramente un buon primo tempo, ottimo primo tempo e peccato per i primi minuti del secondo con dalle espulsioni a rigore che potevamo sicuramente evitare le occasioni stesse. È stimolante o che recchi ma devo dire che quando i giocatori incominciano a stare bene è anche bello farli impiegarli, quindi è sicuramente un'opzione, ci dà caratteristiche diverse e poi ritorno a parlare degli equilibri che sono fondamentali, quindi nel momento in cui c'è applicazione, c'è sacrificio, c'è intelligenza a interpretare la partita è chiaro che con qualità si possono far giocare tanti giocatori insieme. Buongiorno Giovanni Pretendomi già la partita di domani, sentite il peso di non essere ancora sbloccati all'Uzzini e magari poi dovendo affrontare che una squadra che probabilmente arriverà qua con due linee molto chiuse quindi complicherà un po' le capacità di palleggio della tua squadra? Sì, sono due cose sicuramente diverse tra loro, affrontiamo una squadra ben collaudata, ben oliata per quello che è la sua identità e quindi bisogna fare davvero i complimenti a Bisoli per quello che ha costruito, non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso è arrivata tra le prime quattro e quindi hanno sicuramente una base eccezionale, per quanto riguarda il fattore campo da una parte sono dispiaciuto, dall'altra c'è comunque la capacità, la volontà di poter finalmente toglierci insieme anche alla gente perché comunque vincere a Cremona sarebbe già un aspetto determinante per chi come noi vuole essere protagonista nel campionato Sì, due moduli diversi, quello di troppo e quello di Bisoli, chiaramente sono due modi di intendere il calcio diversi però abbiamo notato che su Tirol quando va in difficoltà l'allenatore non si tira indietro, cioè mette dentro anche due o tre punte cerca il tutto per tutto, quindi una partita domani complicata da questo punto di vista con le ripartenze veloci degli attaccanti è un terreno di gioco che sarà non in perfette condizioni perché piove Allora, per quanto riguarda il terreno di gioco l'abbiamo testato un paio di giorni fa ed è eccellente abbiamo con i giardinieri veramente si sono prodigati a sistemarlo e a metterlo a posto quindi non vedremo il terreno di gioco come nell'ultima qualità di Bob Parm Per quanto riguarda Bisoli e Stropa sono due modi di vincere differenti perché sicuramente c'è un'idea che è molto forte Collego e aggiungo a quello che ho appena detto che bisogna stare attenti non soltanto alle ripartenze perché comunque è una squadra che ha dei valori individuali e anche tattici è una squadra che se regali forzatamente la palla ti massacra perché è campo aperto nelle ripartenze, nella parità numerica, nella fisicità per la struttura dei giocatori che la compongono vincere i due anni diventa ancora più determinante domani e quindi bisogna avere molta più qualità rispetto alle altre partite che la squadra ha messo in campo Arribi Mister, dalla lista degli schincolati è arrivato un elemento con curriculum in categoria Tuglia può essere già pronto come lo ha visto e sempre nel pacchetto arretrato come sta Ravanelli si è recuperato Allora abbiamo recuperato tutti, tranne chiaramente lo squalificato e lo Cosvili Tuglia è un elemento importante per la categoria mi sono sorpreso perché era rimasto a casa numericamente viene a darci e a completare un reparto dove probabilmente eravamo un po' scoperti lo ritengo un giocatore veramente importante, spero sia bene fisicamente il suo trascorso dice che è incappato in qualche infortunio ma si è presentato in condizioni fisiche ottimali sarà della partita domani a livello di condizione fisica non è a pari agli altri però si allena con noi da una settimana e quindi siamo contenti di averlo a disposizione Ripartiamo da Gigi Sì, tornando al su, tiro mister, la squadra che fa meno è il possesso palla chi non ha palla poi gli spazi li trova No, 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 ma sono comunque caratteristiche, sono comunque idee quindi ritorno a dire che quello che fanno lo fanno molto bene noi siamo una squadra del palletto, siamo una squadra che magari sul campo cerca di essere dominante questo non vuol dire che delle volte porti a casa dei risultati quindi ci sono delle strategie, delle qualità diverse magari domani sarà stravolto tutto quanto però ripeto, è una partita dove la qualità della giocata, la qualità della gestione della palla diventa fondamentale perché regalarla significa farsi del male poi se saranno più bravi gli avversari a rubarsela, questo è un altro discorso però regalarla gratuitamente non è il caso di domani Ma riesgo, una mia curiosità, volevo sapere il bilancio di queste giornate di Zanimachi in questo ruolo che per lui è abbastanza inedito, se sei soddisfatto e se ritieni che il ragazzo si sia calato in questa realtà con la giusta mentalità, se ha margini di miglioramento Io al ragazzo non ho chiesto se volesse farlo o no, mi sembra molto dentro a parte qualche situazione giustamente non fatta nel migliore dei modi è un ragazzo che sta crescendo molto sull'interpretazione del ruolo anche perché poi se vado nel dettaglio a poter spiegare qual è il suo ruolo non cambia e non siamo molto distanti da quello che faceva prima quindi il suo riferimento dietro ce l'ha sempre c'è uno scivolamento laterale ma comunque sia non lo si obbliga, non lo si condiziona a non andare in avanti anzi, devo dire che sotto questo aspetto mi aspetto molto di più nella chiusura dell'azione, nell'andare ad attaccare la porta nella capacità dell'uno contro uno a giocare per un grosso, per andare al tiro quindi dovrebbe completare e migliorare quello che è l'interpretazione del ruolo oggi gli allenatori diciamo male vengono, cambiano società e spesso essere stato due anni a Bozzano con il suo tirovo e Vigiole si è stato un anno e mezzo a Cremona ecco, questo tipo di incrocio vi mette qualcosa dentro oppure no? oppure è lavoro e quindi è lavoro? beh, lavoro è sempre certo, questo sì anche se dovessimo affrontare una squadra che abbiamo allenato magari nella stagione precedente questo è assolutamente sì, rimangono i rapporti e quindi l'affetto che mi lega ai dirigenti l'affetto che mi lega a, chiaramente parlo in maniera personale e penso che anche Bisoli possa parlare in questo senso, a volte ti trovi in un ambiente dove per sempre rimani legato credo che Bozzano su Tirolo per quello che è stato, che ha rappresentato per me possa essere indelebile nel tempo i miei rapporti non li ho mai staccati non dico che settimanalmente mi sento con le persone di Bozzano quindi è un rapporto che mi legherà per sempre e al quale sono riconoscente perché la mia professione con i grandi è incominciata lì e quindi è un'esperienza che rimarrà per sempre prego Rivi Ministro, le chiedo un commento sul centrocampo adesso che rientra anche Cristian un buon aiuto a proposito di qualità se questo può essere un elemento che può cambiare qualcosa così anche rispetto al centrocampo che abbiamo visto a Cuomo ci sono anche giocatori che magari abbiamo visto ancora poco come Bertolacci e Maier a che punto sono secondo lei? Stanno crescendo tutti poco fa ho fatto una riunione e prima di fare la riunione video con la squadra ho fatto davvero i complimenti a tutti perché in queste due settimane ho visto una crescita esponenziale sotto tutti gli aspetti la cosa più bella è che sono dentro tutti nessuno sta mollando anzi fisicamente stanno crescendo mentalmente dentro a un'idea e il quotidiano mi stanno dando delle risposte eccellenti e mi stanno mettendo in difficoltà quindi qui non c'è soltanto la convocazione per la domenica o la formazione per la domenica qua c'è una problematica nel allenarli nel quotidiano perché delle volte quando fai un'esercitazione qualcuno deve stare fuori e quindi facevo i complimenti poco fa davvero alla squadra per quello che mi stanno dando e quindi sono molto molto contento può bastare? sì, ma che uno sguardo scusate, uno sguardo a fine mese non è che si parla di partita in partita però c'è la Copitalia Copitalia che è importante non so se non è arrivata in semifinale quindi è stato un grande esultato ecco, la Copitalia non si snobbo mai questo è fondamentale quindi i cittadini che incontriamo tre giorni prima l'anno li troviamo tre giorni dopo qua quindi questo cosa significa a livello di mentalità e di preparazione? beh, allora ci arriveremo non so come ci arriveremo e magari la mia risposta sarà diversa oggi io visto quello che ho detto poco fa andrei a far giocare tutti quelli che magari non sono stati impiegati perché al di là di avere una conoscenza sulla risposta che posso darmi chi eventualmente è stato impiegato poco ma c'è la volontà veramente di riconoscere fino adesso un impegno che è stato eccezionale da parte di chi magari è stato impiegato meno grazie